Si sensibilizza sempre più la cittadinanza rispetto a questa malattia. Assessore Tarsi, una iniziativa che ha coinvolto l'amministrazione comunale, intende allargare questo problema a tutta la città. Che cosa si sta facendo? Bene, anche Fano, insieme ad altre 60 città italiane, farà parte, diventerà comunità amica delle persone con demenza. E' stato deliberato ieri in giunta questo progetto che dà l'inizio ad un percorso virtuoso perché fa diventare la nostra città amica delle famiglie, delle persone con demenza. E come faremo questo? Cercando di costruire progetti insieme alle associazioni delle famiglie, insieme anche al terzo settore, che possano sensibilizzare la città. Della demenza, dell'Alzheimer, non si deve avere paura. Le persone con demenza hanno però bisogno di essere accolte nei punti, per esempio, di accesso, esercenti, forze dell'ordine, punti di primo ascolto. Devono essere accolte con la capacità di poter riconoscere la persona malata. La città deve diventare più sensibile, più accogliente. Lo faremo con un gruppo di lavoro che è stabilito sia di cinque persone che appunto saranno rappresentanti delle varie realtà cittadine che si occupano di questo problema. E' un problema che si estende anche nel territorio, tanto che viene coinvolto anche l'ambito sociale. Sì, il progetto è un progetto pilota che parte con la città di Fano, con l'intenzione però, una volta che avremo avviato le varie attività, di poterlo estendere anche alle altre città dell'ambito, perché questo purtroppo è un problema di tutti. E' un problema molto sentito dalla città ed è un problema che appunto riveste aspetti non impegna soltanto il malato, è un problema che ricade su tutta la famiglia, su tutto il nucleo familiare, diventa un problema non solo economico ma spesso anche psicologico per chi si fa carico dell'assistenza alla persona malata. Quindi è l'ambito territoriale che in qualche modo diventa un po' un contenitore dell'accoglienza a queste famiglie. L'Associazione Cante di Montevecchio, dove appunto si dà anche assistenza a tutte le persone che hanno una certa disabilità, in cosa consiste praticamente l'attività? Adesso inizialmente noi avremo un primo tavolo che è stato costituito con la delibera firmata ieri, che sarà un tavolo di progettazione, di programmazione. Dovremmo intanto arricchirlo, eventualmente di nuovi stakeholders si chiamano adesso, ma di nuove persone, organizzazioni interessate all'argomento e poi cominceremo a fare una sorta di mappatura delle cose che la nostra città ha già in tema di demenza e di quali sono le esigenze che invece dobbiamo incominciare a costruire per rispondere a questa particolarità. La demenza è una malattia, l'Alzheimer è una malattia, ma è anche una particolarità che investirà tante persone, sta già investendo tante persone e ne investirà veramente tante nei prossimi anni. Grazie a tutti.